Giusy, hai visto che serata stasera? Ho visto, ho visto una serata. Sono tutte belle le puntate di... Sono tutte belle, però ci sono serate che presentano più spunti rispetto ad altre. Esatto. Qui abbiamo parlato di tecnologia, abbiamo sempre accenato la tecnologia in finanza, ne abbiamo sempre parlato, ci torneremo, la parola è fintech, questa belledetta parola in cui abbiamo fatto la coniugazione della tecnologia con la finanza. Avremo la possibilità di poterne parlare ancora, però stasera parliamo della domanda di educazione finanziaria che partiamo stasera, Giusy. L'educazione finanziaria parte con una parola che si sente spesso, che è la parola risparmio. Beh sì, risparmio che è anche nello slogan con il quale tu inizi sempre le nostre puntate. Risparmio è in parole povere, perché noi siamo abituati ad usare le parole semplici per tutti quanti, per riconoscerci anche noi in questi concetti che viviamo tutti i giorni. Il risparmio è la rinuncia che noi facciamo ogni giorno ad accantonare, a risparmiare, a non consumare una parte del nostro reddito. Lo possiamo fare individualmente, lo possiamo fare a livello di famiglia, lo possiamo fare all'interno delle nostre aziende. e questo risparmio, questa parte di reddito che non consumiamo, lo destiniamo ad un consumo in un tempo futuro, che può essere un tempo prossimo, quindi domani, piuttosto che con degli obiettivi a livello temporale più lunghi. Il risparmio lo concepiamo sempre, noi siamo nati col concetto del risparmio, del dire non si sa mai, per gli imprevisti, quindi è chiaro che noi abbiamo un ordine di priorità quando destiniamo una parte del nostro reddito che sacrifichiamo alla nostra soddisfazione quotidiana del non consumare, lo destiniamo a qualcosa a cui noi pensiamo. E il risparmio può essere impiegato anche in diversi ambiti. Abbiamo delle priorità, dicevamo, perché le famiglie, prima di tutto abbiamo sempre detto, che le famiglie innanzitutto devono pensare a quello che è la priorità di ogni giorno, quindi la gestione della vita quotidiana. Poi c'è la copertura dei rischi più importanti, quindi il caso vita, piuttosto che le polizze sanitarie. La protezione della famiglia? Esatto. O dell'azienda? Esatto. O poi ci sono altre forme di investimento e quindi da quel momento in poi, da quello che è l'asse della priorità, diventa non più risparmio ma si trasforma in investimento. E allora da qui abbiamo parlato in più volte, in più occasioni, di risparmio investito in obbligazioni, in azioni, intanto per citare qualche strumento, non perché siano quelli più importanti, però obbligazioni, azioni, fondi comuni, fondi pensioni. Questo è proprio un po' l'evoluzione in sintesi di quello che noi a volte pronunciamo in una parola sola, che è il risparmio, e contenuto in questo sacrificio che noi facciamo tutti i giorni, come individui e come famiglie, per i nostri progetti futuri. Anche perché il risparmio di oggi, Giusy, è il pane di domani. È il pane di domani. Quindi l'importante è che il risparmio deve tornare a essere un valore. Deve tornare a essere un valore e un po' una regola di vita, perché sappiamo bene che noi dobbiamo un po' pensare di risparmiare. Ovvio, l'abbiamo detto più volte, molte famiglie oggi fanno fatica ad arrivare a fine mese, quindi è chiaro che dobbiamo fare i conti anche con le problematiche del vivere oggi nella nostra economia. Lì, dove c'è l'opportunità di avere una parte di reddito da poter destinare, da poter rinviare per andare a destinare i nostri progetti, è importante che noi lo facciamo, lo organizziamo, lo programmiamo con un po' di regole. Lo fanno anche le aziende, ne abbiamo qua due. Il risparmio dove lo canalizzano poi loro? In investimenti? Certo, in investimenti di macchinari, in investimenti per futuri ampliamenti produttivi, nella qualificazione o nelle competenze delle risorse umane. E perché no? Abbiamo una start-up, quindi i ragazzi che decidono anche solo di porsi un obiettivo potrebbe essere la base. È chiaro che non saranno mai autonomi, indipendenti, nel senso che comunque si parla di piccoli risparmi. Però è un inizio, è un inizio, è un punto di partenza che è molto importante. A volte i punti di partenza servono per dare anche proprio la grinta e le basi solide per un progetto. Ricordiamo simpaticamente ancora una volta che il nostro presidente dell'Inps, Maurizio Poli, il professor Tito Boeri, ha detto simpaticamente che chiunque le innate nel 1980 quando andranno in pensione più o meno a 75 anni, benissimo, questo è l'arco temporale, il risparmio dovrà accompagnarli, però non hanno detto con quanto i calcoli fatti oggi non quando andranno a 75 anni con l'indice di conversione che ci sarà, allora indicano di 750 euro al mese. La parola del risparmio è sempre più importante, va in ordine delle priorità e va pianificato. E la previdenza direi che subito dopo i rischi della caso vita o temporanea caso morte, come si vuol definire, piuttosto che la polizia sanitaria, viene subito dopo la previdenza. Perché prima si inizia nell'ambito della previdenza e meglio è, perché si hanno tutti i vantaggi fiscali, perché si hanno tutte, tutto quello che è la normativa specifica nell'ambito della previdenza è fondamentale per una pianificazione, una programmazione di questo strumento che è colui che ci sosterrà in un'età in cui noi non potremo più lavorare. Magari in un'età in cui avremo anche dei problemi, quindi assolutamente l'integrazione a quella che potrebbe essere la pensione pubblica è fondamentale per la dignità, per avere l'assistenza. Abbiamo già trovato una strada al nostro piccolo risparmio, una piccola strada che può essere molto importante per il futuro di una famiglia. Direi che viene prima di tutto, l'ambito della previdenza è prima di tutto, perché è l'obiettivo per cui si può lavorare poco alla volta, ma tutti i giorni, tutte le settimane. Piccoli passi ma costanti. Certo. Benissimo, tornando a te Giusy, grazie. Grazie.